ciao ciao oggi vi voglio far vedere 3 finger aggiorno 3 allora ora di sotterraneo seman e re delle scine drago 600 occhi e figgera congelato androide magico acerrutame drago della luce finale e parascavaliere unicatore poi di po scavaliere col posturo occhi demoni non perdere i pensieri e sergente stingy e il drago paradosmo poi cavaliere di fioli genex di rotone generale il drago il drago il drago di nascura anche poi la antica sacra di vergine qua le guerre tra la drago e la via del caos e queste sono le carte più comuni di oggi e sempre più comuni l'uso di artigli marino e l'ingranaggio marino e poi scusate bravone scuole e di qua bravone scuole e di qua gioco scusate ciao a tutti